Ho visto da lontano questo camioncino con lama che stava con la lancia verso il taxi. Lui ha fatto con la lancia sia sul tetto, sia sul vetro, sia sul cerchio. Ha fatto pure una botta sul... c'è tutta la fiancata e loro dicono che lui lavrando le scale gli avrà schizzato qualcosa e si era sporcato un po' il taxi e poi lui l'ha pulito. Può darsi che è vero perché alla fine un motivo ci sta perché diciamo la verità, loro non è che stanno là per fare la lavaggio delle auto, ci mancherebbe che non penso che lui lama sta là perché gli ha dato 10 euro e laviva la macchina perché questo non è fattibile diciamo perché nessuno lo accederebbe, no? Che pure attenzione la macchina che sta dietro al video, il suo collega il tassinaro, oh si è incazzato pure quello. Io penso che chiacchierando perché lama stava pulendo le scale della chiesa di quella lì che stava sul tetto del popolo, no? Parlando, chiacchierando, si sono messi in confidenza, magari il tassinaro avrà dato schermo e fa una botta qua. Cioè anche perché lì ci sono San Pietrini, come fa a sporcare, se non c'è fango, non c'è niente, come fa a sporcare un camioncino il tassino? Ma anche se forse, ragazzi, non è che puoi lavare la macchina là, non lo puoi fare, è la piazza più bella del mondo.